Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. I giudici della Corte di Cassazione non hanno accolto i ricorsi avanzati dai legali degli imputati coinvolti nell'inchiesta Cleandro. Il boss Salvatore Renzivillo e un gruppo di agrigentini entrarono in affari per piazzare la droga. Un traffico di droga consponde anche fuori dall'Italia. I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato le condanne per il boss Salvatore Renzivillo, attualmente ristretto sotto regime di 41 bis, per il gruppo di agrigentini che finì coinvolto nell'inchiesta Cleandro, una costola della maxi-indagine extrafine. I magistrati romani non hanno accolto i ricorsi dei legali dell'ossessore Renzivillo e di Paolo Rosa, Ivano Martorana, Salvatore Guelli, Nicola Guelli e Mario Cassaro. La decisione rende definitive le condanne per Renzivillo, difeso dal legale Roberto Feltra, la pena a 20 anni di detenzione, 18 anni ad Ivano Martorana, 11 anni per Paolo Rosa, 9 anni a Salvatore Guelli e Nicola Guelli, che furono assolti nei gradi precedenti dalla contestazione mafiosa e infine 4 anni a Mario Cassaro, a sua volta già assolto dall'addebito di mafia. I PM della Didia di Caltanissette e quelli romani concentrarono gli sforzi investigativi proprio intorno a Renzivillo, considerato nuovo vertice dell'omonima famiglia di Cosa Nostra con l'assenso dei fratelli ergastolani Antonio Renzivillo e Crocifisso Renzivillo. Martorana e Rosa furono indicati come riferimenti del boss anche in Germania, dove avevano vissuto gli agrigentini. Altri imputati sono a processo in un diverso filone del procedimento, avendo optato per il rito ordinario. Le condanne confermate dalla Cassazione invece riguardano la costola scaturita dalla scelta del rito abbreviato. I legali degli imputati hanno sempre escluso l'esistenza di un'organizzazione finalizzata al traffico di droga. Non sarebbero emerse certezze in base alle loro indicazioni sull'effettiva esistenza di un'asse della droga. Tra i difensori ci sono gli avvocati Salvatore Pennica, Carmelo Lombardo, Angelo Picchioni, Lillo Fumo e Alfonso Neri. Uno studio condotto da SVG in occasione della giornata internazionale dell'infermiere mette alla luce quanto ancora ci sia da fare per realizzare il pieno riconoscimento di questa professione. Sulla base di questo studio il Nursing sottolinea l'importanza di affrontare le condizioni di lavoro degli infermieri soprattutto per quel che riguarda turni di lavoro più equilibrati e una retribuzione adeguata e opportunità di crescita e sviluppo professionale. Infermieri ancora eroi agli occhi dei cittadini ma restano molte criticità nella professione quanto emerge da uno studio condotto in occasione della giornata internazionale dell'infermiere. Il sindacato Nursing ha commissionato un'indagine sulla professione infermieristica per valutare il riconoscimento da parte dei cittadini e le criticità ancora irrisolte. I dati elaborati dall'indagine Nursing SVG mostrano che almeno uno su due cittadini riconosce gli infermieri come figura professionale di alto valore tuttavia restano ancora alcune sfide da affrontare per il pieno riconoscimento degli infermieri. Secondo lo studio SVG che per il Nursing rispecchia la realtà nissena i cittadini apprezzano la possibilità di aiutare concretamente le persone offerte dagli infermieri come evidenziato dal 50% del campione e riconoscono l'alto valore sociale della professione tuttavia i turni di lavoro sono stati indicati come il principale fattore negativo dal 40% dei cittadini mentre il 39% è evidenziato il gravoso impegno fisico e mentale degli infermieri. Inoltre i giovani non vedono di buon occhio la durata del percorso di studi infermieristici ritenendolo troppo lungo soprattutto a causa della scarsa autonomia decisionale nell'ambiente lavorativo. Sono venuti fuori molti aspetti, alcuni molto positivi, altri ovviamente un po' meno come ad esempio la percezione che ha la gente ancora nei confronti degli infermieri che è molto positiva. Riscontriamo anche in questo sondaggio che la gente vede nell'infermiere la persona che si prende cura dell'ammalato ma che nello stesso tempo per certi aspetti viene retribuito abbastanza male. L'indagine rivela anche un calo significativo nel sostegno alla scelta di iscriversi al corso di laurea in infermieristica con oltre due italiani su tre che lo supporterebbero ma con un decremento del 15% rispetto all'indagine condotta nel 2012 dal Censis che arriva al 18% tra i più giovani. Inoltre le basse retribuzioni rappresentano una piaga per il 58% dei cittadini. La percezione che hanno i giovani è proprio la poco appetibilità di questa professione ma non dal punto di vista professionale, umano ma proprio dal punto di vista pratico quindi dal punto di vista della remunerazione il percorso di studi molto complesso fino anche a completare attraverso gli studi della laurea magistrale. Il NURS intanto sottolinea l'importanza di affrontare le criticità evidenziate dall'indagine al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli infermieri soprattutto per quel che riguarda turni in lavoro più equilibrati e una retribuzione adeguata e un'opportunità di crescita e sviluppo professionale. Le richieste che facciamo come sindacato hanno il valore di vedere riconosciuto la professionalità dell'infermiere come riconosciuta in altri settori, in altri ambiti quindi diciamo che ancora la figura dell'infermiere in certi settori viene vista come mero esecutore di ordini ma non è così. Quello che chiediamo noi è il rispetto della professione e il rispetto anche diciamo di tutte quelle situazioni che vanno soprattutto a vantaggio del paziente. In città sono in corso le prove tecniche di unità nel centro-destra anche se quanto è accaduto intorno alla mozione di sfiducia qualche inciampo lo sta determinando in provincia in ogni caso i gruppi dirigenti dei partiti sono comunque intenzionati a chiudere un'intesa complessiva qualche segnale è emerso anche nel corso dell'inaugurazione della nuova sede di Fratelli d'Italia Caltanissetta c'erano i vertici meloniani ma anche esponenti di altri gruppi d'aria come Oscar Aiello, Giovanna Candura e Massimo Dell'Utri tra i taggettatori dell'accordo nel centro-destra c'è sicuramente il vice coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Sandra Bennici l'ex consigliere comunale di Messasilo scorso anno è molto attiva anche in città. Sono otto gli imputati che a settembre dovranno presentarsi davanti al gruppo del tribunale per l'udienza preliminare la procura chiede il rinvio a giudizio e l'imprenditore Giovanni Salsette e gli altri coinvolti sono accusati di aver sfruttato un sistema irregolare per ottenere compensazioni tributarie Davanti al gruppo del tribunale dovranno presentarsi a settembre sono otto i coinvolti in un'indagine che lo scorso anno determinò approfondimenti su quello che viene ritenuto un presunto sistema irregolare fondato su compensazioni fiscali in debite è stata fissata l'udienza preliminare per l'imprenditore Giovanni Salsetta per il commercialista Sergio Tufano noi ancora per Giuseppe Goldini, Luca Corallo, Donato Proietto, Matteo Collura, Antonio Riccio e Manuel Canale gli investigatori ipotizzano un'elusione fiscale da circa 4 milioni di euro e ci sarebbero state società di appoggio utilizzate solo per le compensazioni contestazioni che gli imputati hanno respinto già in fase di indagine per Salsetta a fine marzo il resame di Caltanissetta annullato uno dei capi di imputazione confermando quanto deciso dalla Cassazione che aveva già colto la tesi del difensore l'avvocato Giovanni Lomonaco in base a quanto deciso dai magistrati nisseni l'operazione di accollo da circa 700 mila euro condotta dalle società Edilponti e Medi Group venne effettuata sulla base di crediti effettivi e tutti riconducibili alla stessa Edilponti della quale Salsetta fu tra i fondatori lo stesso imprenditore risulta a parte offese in un procedimento analogo condotto dai PM romani la procura locale conferma però le proprie determinazioni e dovrà essere il gruppo a valutare le richieste compresa quella di rinvio a giudizio tra i difensori dei coinvolti ci sono gli avvocati Angelo Caffa Elena del Trono, Luigi Parenti, Mario Siniscalco, Luigi Senatore e Michele Rullo Il sindaco Lucio Greco e l'assessore Salvatore Incardona sono stati sentiti dalle commissioni sviluppo economico e turismo per approfondire l'aspetto dei costi e da sostenere per organizzare le manifestazioni a corredo dell'ottantesimo anniversario dello sbarco alleato hanno riferito che i numeri di recente emersi sono solo un'ipotesi Quelli che iniziano ad emergere non sono i numeri definitivi per la copertura dei costi dei festeggiamenti dell'ottantesimo anniversario dello sbarco alleato giovedì sentiti in audizione dai consiglieri comunali delle commissioni sviluppo economico e turismo il sindaco Lucio Greco e l'assessore Salvatore Incardona hanno voluto precisare alcuni aspetti della questione che inizia a farsi sentire anche politicamente si tratta della proposta di programma redatta dal comitato scientifico così hanno riferito il primo cittadino e l'assessore che puntano parecchio sulla riuscita dell'evento da estendere su più settimane e almeno fino ad inizio settembre hanno risposto proprio in riferimento agli atti che sono stati trasmessi ai consiglieri ciò che crea dubbi anzitutto politici e l'entità dei costi nella proposta si fa richiamo ad un budget che potrebbe arrivare fino ad un milione di euro soglia che secondo alcuni potrebbe oggettivamente stridere in una fase di crisi finanziaria del municipio al momento hanno ribadito Greco Incardona non ci sono numeri definitivi le uniche vere certezze sembrano i fondi delle compensazioni ENI almeno rispetto al capitolo che riguarda le iniziative per il rilancio culturale del territorio i consiglieri delle commissioni e i presidenti Rosario Faraci ed Emanuele Labbiso hanno iniziato a valutare con molta attenzione sono tante le voci da sottoporre ad approfondimenti nella proposta di programma per le iniziative dei festeggiamenti si indica un contributo diretto anche di ENI come forma di sponsorizzazione il sindaco e l'assessore hanno spiegato che si tratta in questa fase solo di impegni potenziali che vanno confermati pare che si tenda ad escludere un budget troppo elevato e anche sulla scelta degli affidamenti per le manifestazioni e i progetti da portare avanti ci saranno altre riflessioni da fare le due commissioni comunque vogliono un nuovo incontro con l'amministrazione e con il comitato scientifico potrebbe essere fissato a breve si è svolta questa mattina al teatro antidoto di Macchitella la premiazione dei vincitori della dodicesima edizione del premio Agon i primi classificati tra gli istituti scolastici vengono da Roma mentre un liceo di Palermo si è giudicato il primo posto tra gli istituti musicali si è svolta stamattina al teatro antidoto di Macchitella la premiazione per la dodicesima edizione del premio Agon oggi è la giornata conclusiva ci sarà la cerimonia di premiazione dei vincitori della Agon 2023 noi non possiamo che essere soddisfatti per come finora è andata questa gara perché abbiamo intanto riscontrato la partecipazione di tantissime scuole provenienti da otto regioni d'Italia ma soprattutto la scuola è stata coinvolta in una grande festa perché poi gli studenti insomma riescono a superare qualsiasi forma di imbarazzo oggi si ripete però con uno spirito diverso nel senso che deve tenere conto della novità che è stata ingiudotta dai nuovi linguaggi per cui non c'è soltanto la traghettatura da verso a verso ma c'è la traghettatura da un mondo a un mondo nuovo che deve essere costruito dai ragazzi che stanno partecipando oggi 30 anni dopo questa manifestazione continua con nuovi linguaggi i ragazzi si sono cimentati in una cosa assolutamente bellissima e originale cioè sposare il linguaggio classico delle tragedie greche ai nuovi linguaggi musicali è stato molto emozionante per me poter ascoltare loro perché insomma è sempre bello rivedersi con gli occhi di allora e capire anche dove sta andando la musica oggi abbiamo fatto un'operazione straordinaria io chiamo di archeologia teatrale perché nella tragedia greca del quinto secolo a.C. in questa, in quella esofoca, in quella euripida i cori erano accompagnati da musica eccetera, l'aulos, il flauto oggi abbiamo richiamato quindi non abbiamo innovato abbiamo recuperato abbiamo fatto un'operazione di archeologia straordinaria io sono felice di essere qua questa è un'importante iniziativa che porta alto il nome della città e fa passare un messaggio sicuramente positivo ed edificante del nostro territorio siamo orgogliosi che la GON Eschileo sia arrivato alla dodicesima edizione segno di un liceo classico e comunque di un'attenzione all'interno della nostra città che è viva che verrà portata avanti sicuramente grazie alla collaborazione e grazie all'impegno non solo degli studenti ma anche e soprattutto dei docenti che sono veramente il motore di questa fantastica manifestazione siamo arrivati da Roma perché appunto abbiamo partecipato al concorso abbiamo vinto siamo i vincitori della parte dei licei classici perché c'è anche una parte dei licei musicali siamo arrivati qui appunto dopo aver fatto un lavoro di registrazione stesura del testo insomma siamo in sei quindi abbiamo unito le forze ci siamo messi sotto e siamo molto contenti di essere qui e di aver raggiunto il primo posto una bella sfida però altrettanto diciamo difficile però quanto bello impegnativo perché appunto abbiamo tradotto abbiamo tradotto il testo ci siamo confrontati tutti quanti insieme abbiamo capito come riuscire a trovare una chiave di linguaggio nuova per poterlo trasferire in musica e questo è stato il risultato appunto siamo felici di quello che siamo riusciti a fare siamo anche contenti di portarlo qui al teatro cosa avete realizzato? io ho realizzato appunto questo brano riguardo appunto la tragedia di Eschilo anche con una parte rappata insomma per creare quel contrasto che c'è tra la musica leggera e anche il rap ripartire dalla progettazione dai fondi che sono garantiti sia a livello nazionale che sul fronte europeo su questo versante insistono i giovani di generazione Gela c'è chi in città vuole restarci a vivere compresi diversi giovani che vorrebbero rilanciare l'immagine del territorio Generazione Gela ritiene che oggi è possibile attivare un modello di cittadinanza attivo virtuoso e si mette a disposizione dei tanti giovani professionisti studenti universitari e dei cittadini in generale che hanno la medesima voglia di riscatto per continuare a potenziare questa attività di ricerca e studio per strutturare progetti e idee di rilancio della città Le mamme delle coccinelle dell'istituto di via Caviaga hanno partecipato ad un momento di laboratorio e di festa organizzato dalle insegnanti in occasione della festa della mamma La sezione primavera dell'istituto comprensivo Giovanni Verca ha organizzato un momento di festa per i piccoli alunni del plesso di via Caviaga e le loro madri L'incontro è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica Viviana Aldisio che ha presenziato alla festa ringraziando le insegnanti del plesso per l'egregio lavoro svolto nei pochi mesi di attività nella sezione delle coccinelle È un momento speciale, siamo alla nostra seconda annualità la sezione appunto la coccinella che è poi la sezione primavera rivolta appunto ai bambini dei 24 e 36 mesi cresce in attività soprattutto in offerta pedagogica ai bambini Il momento di condivisione con le mamme è uno dei momenti del percorso che chiaramente programmiamo ogni anno abbiamo colto l'occasione in prossimità della festa della mamma di domenica appunto 14 proprio perché i bambini condividono gli spazi condividono le attività insieme alle proprie mamme ma la cosa più bella che condividono è il tempo Oggi tante mamme che lavorano, sono mamme lavoratrici hanno chiaramente ritagliato la loro mattinata ai loro bambini È stato un regalo reciproco, almeno questo è il feedback che mi perviene il fatto che obiettivamente si corre sempre probabilmente si trascurano dei momenti importanti per la crescita dei propri figli Le mamme presenti hanno partecipato anche alle attività che quotidianamente gli alunni svolgono all'interno dell'istituto accompagnando i loro bambini passo passo durante la giornata È una giornata bellissima, diciamo è la giornata che sancisce la festa della mamma che però ci fa vedere anche il lavoro svolto in questi giorni dai nostri bambini in questi mesi abbiamo iniziato purtroppo a febbraio però le maestre, va un grazie immenso le maestre che ci lavorano ogni giorno con i nostri figli e fanno veramente tante attività che pur essendo piccoli li stimolano ogni giorno gli fanno fare delle attività che sono veramente molto costruttive ed educative Attività in cui siete state coinvolti anche voi oggi? Oggi ci siamo trovati a dipingere quindi capiamo anche le difficoltà insomma che le maestre hanno con tutti questi bambini a fare delle attività che sembrerebbero complesse per bimbi così piccoli perché sono bimbi che alla fine hanno due, due anni e mezzo che però risultano essere molto belle per loro ma anche oggi per noi che è stato bello vivere questo momento insomma insieme a loro Noi come istituto siamo molto soddisfatti di questa realtà che comporta obiettivamente tanta fatica organizzativa, gestionale andiamo avanti grazie ad un progetto regionale che finanzia esclusivamente il compenso delle educatrici e delle accudiente però dall'altro lato c'è tanta collaborazione da parte dell'utenza e quindi si riesce a mettere su una bella realtà pedagogica è chiaro che se a questo si associassero altri tipi di supporto potremmo anche allargare di più il servizio e farlo continuare per un periodo più ampio Lo sport fusione tra Gela Football Club ed SSD Gela al momento congelata come affermato sulla pagina Instagram dei Biancazzurri mancano attualmente le condizioni necessarie per procedere all'unione delle due prime squadre di calcio a 11 Venerdì pieno di sorprese per il calcio gelese la SSD Gela dopo l'incontro in mattinata tra il patron Biancazzurro Maurizio Melfa e il presidente del GFC Marco Scerra ha affermato attraverso la propria pagina Instagram che non ci sono attualmente le condizioni per procedere alla fusione con i gialloneri l'incontro a quanto pare non è andato a buon fine pare che uno dei problemi più ostativi sia stata la scelta dello staff tecnico in particolar modo di allenatore, direttore sportivo e team manager pertanto le due squadre, a meno di ripescaggi, faranno parte entrambe del prossimo campionato di promozione come affermato nel comunicato, tra le due squadre rimane comunque un rapporto di stima e amicizia insomma, questa fusione non sa da fare, almeno momentaneamente e il pessimismo continua a crescere in maniera esponenziale ad incidere probabilmente sulla decisione delle due società calcistiche anche i due risultati delle due squadre nei rispettivi campionati con il GLFC che non è riuscito a salvarsi dalla retrocessione in promozione e l'SSD che invece ha sprecato tanto nell'ultima stagione e non ha raggiunto il salto di categoria in eccellenza proprio questo weekend il GLFC tornerà in campo al Presti con la sua formazione Under-17 regionale contro il Cus Palermo match valido per la gara d'andata dei quarti di finale l'ingresso per assistere alla partita della squadra di Mr. Giuseppe Ferrigno sarà gratis E' tutto, il nostro telegiornale termina qui per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it adesso vi lascio le previsioni medio grazie per averci seguito Grazie a tutti Grazie a tutti